Signori, vediamo se riusciamo ad aggiungere per questo video sulle mura del villaggio notturno i mille pollicioni in su. Buona visione. Ehi la! Gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati sul villaggio notturno di Clash of Clans. Come potete vedere, ho ancora l'evento a disposizione perché sto registrando questo video qualche giorno prima per avercelo pronto. Come ho detto poco fa in questo episodio vorrei parlare di mura, visto che è solo un argomento un po' spinoso su questo tipo di villaggio. Una cosa che sicuramente molti si mi hanno odiato è appunto il fatto che sono legate a strisce di 5 e non sono pezzo singolo come sul primo villaggio. Ma per le povere mura non è finita qua, infatti come dicono anche giocatori top mondiali, non sono poi così tanto utili. O meglio, a detta loro è molto più importante la difesa, quindi è molto più importante upgradeare una toglia dell'arciere, un calorifero, un multimortaio, non il muretto. D'altro canto però non è possibile giocare con tutte le mura sempre a livello 1, quindi bisogna trovare una via di mezzo. Ho visto che nei commenti molti mi hanno scritto una cosa che penso anch'io, ovvero che il livello medio, che poi è medio basso, però diciamo accettabile ecco, è il livello 4. Infatti come ho detto nei video precedenti, anche sto cercando di portare tutte queste mura a livello 4 e sto sfruttando questo evento che c'è in questi giorni proprio per cercare di farmare tanto oro. Quindi signori io comincerai subito con un attacco e vi diamo un attimino se riusciamo subito a fare una bella vittoria. Siamo quasi quasi sotto le 3000 coppe, quindi se arriviamo a 3000 gente ci arriva pure il bonus di gemme, è il top. Anche se qua ci è capitato subito un villaggio che non è molto facile da attaccare, infatti direi di tenere queste truppe qua. Andiamo con full baby dragon, vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Ok, andiamo di qua con la macchina da guerra. Attiviamo subito l'abilità. Andiamo con altri draghetti di qua e di qua. Anche qui, ok, anche qua sotto che vedo che c'è meno difesa aerea, ottimo. La macchina da guerra sta prendendo tanti di quegli hit da morire. Resisti, piccolina, grande. E vediamo se riusciamo a buttarci ancora qualcosina qua, qua e qua. Vediamo un po' se riusciamo a fare della percentuale. Daie, 40%, mamma mia ragazzi, sta formazione BH7 ha tenuto botta per bene. Però facciamo comunque una stella, benissimo, 50%. E se ci dice bene, 56. Va bene, un 56 ci può stare, pensavo di fare molto peggio. Ah, non è sufficiente però perché ha fatto anche lui un 56 ma pigliando il municipio. Quindi torre dell'orologio, signori. E io dico già che secondo me sarà dura raggiungere le 3000 coppe oggi. Dovemmo farlo poi in un altro video. Ok, possiamo procedere quindi con il secondo attacco. Vediamo un po' cosa ci capita. E ci capita un altro BH7. Io anche questo qua non so come attaccarlo se non col baby dragon. Quindi nulla, buttiamo la macchina da guerra qua su questa difesa aerea. Cerchiamo di tirarla giù subito. E andiamo con subito un po' di draghetti. Di qua, di qua, di qua, di qua. Ok, ok. Dai che stiamo colpendo la difesa aerea. Dai, tiramela giù. Ottimo. Andiamo con un altro draghetto. Me ne è scappato uno extra, tra l'altro. Andiamo con un draghetto anche di qui. E cerchiamo di andare a pigliare quella miniera lì. Ok. Siamo su un 43%. La macchina da guerra è morta. Dai, cerchiamo di fare un po' più di percentuale, per favore. Non possiamo morire così, signori. 45%. Dai, ancora uno sforzo. Arriviamo a 48%. Ultimo sforzo. Dai, 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 dai. 50%. Nulla di più, ragazzi. Contro sti BH7. Sto facendo un po' di fatica oggi. E infatti mi hanno steccato di nuovo. Che bello. Torno a ripetere. Mi sa che non raggiungiamo le 3000 coppe oggi. E al terzo tentativo, di nuovo BH7. Io penso che tra poco spaccherò il monitor che ho davanti. Con un pugno, ok? Con un pugno dritto dentro il monitor. No, ragazzi. Eppure è finito il tempo, io non ho ancora scelto le truppe. Oh, signore santo, ragazzi. E che cacchio faccio adesso qua? Eh, ci provo. Mi scapperà il solito 50% da gatto morto. Ho già capito. Ho già capito io che mi scappa il 50% da gatto morto, ragazzi. Proviamoci, proviamoci. Per carità. Vediamo un po' se sta macchina da guerra riesce ad entrare. Ok. Andiamo di qua con un draghetto di nuovo. Dai, e su. Spingi, draghetto. Dai. Cerca di farmi un po' più di percentuale del 50%. Su. 45, 48, 50. Abita della macchina da guerra. Dai, macchina da guerra. Sorprendi tutti con effetti speciali. 53. Mi sa che rimaniamo su 53 perché lì c'è un doppio spaccatutto più... Come si chiama? Calorifero. E la vedo veramente dura. Calorifero, cioè, spaccatutto maxato, tra l'altro. E tanti saluti. Tanti saluti, ragazzi. Però vittoria. Attenzione. Vittoria. Direi chi l'avrebbe mai detto. Allora, proviamo un pochettino a vedere adesso come spendere queste belle risorse. Perché siamo praticamente full. Se facciamo ancora un attacco rischiamo solamente di perderne. Allora, iniziamo dai muretti. Facciamo il primo muretto. Et voilà. Facciamo il secondo muretto. Et voilà. Facciamo il terzo muretto. Et voilà. In realtà sarebbero 15 muretti, ma vabbè. Andiamo col quarto gruppo di muretti. Et tac. E ce ne scappa ancora uno, signori. Abbiamo fatto tutta la striscia. Grandissimi. Ottimo, ottimo lavoro, direi. E non ci uscirà mai più un muretto, anche se vinciamo l'attacco. Quindi, questo milione e mezzo di lesir, devo spenderlo. Nell'unico modo in cui posso spenderlo. Infatti, visto che il laboratorio è occupato dalle streghe che si stanno facendo a livello 10, devo andare per forza qui. Sulla macchia da guerra, che la mettiamo in potenziamento a livello 6. Bam! Macchia da guerra in potenziamento per un giorno. E quindi, sapete cosa vi dico? Attacco ancora una volta. Così, senza macchina da guerra. Voglio vedere che cosa riesco a combinare. Su un BH7, tra l'altro. Signore santo, aiutami tu. Posso andare praticamente solo di Baby Dragon, perché sono l'unica cosa che mi garantisce un minimo di percentuale decente. No, ho sbagliato a piazzare quel Baby Dragon. Non ho attivato l'abilità. Ok. Riusciamo a piazzare ancora qualcosina. Vediamo un po' questo qua dove va. Va di lì. Allora dai, proviamo così. Proviamo così. Ok. Dai, Baby Dragon. E sta subendo un casino di hit. Però ti va giù comunque la difesa aerea. GG. GG e 32%, signori. È un po' una percentuale cattivissima. 37. Aiuto, aiuto, aiuto. 43. 43. C'è il mondo che ci sta sparando. E la macchina da guerra, ragazzi, si sente la mancanza, eh. Si sente la mancanza. 43% non riusciremo mai a vincere. E infatti, gente, un bel 62% con una stella. Comunque, ragazzi, non vorrei dire, ma pure oggi 4 tacchi anziché 3 è tanta roba. Ad ogni modo, ragazzi, io come al solito vi ringrazio per tutto il sostegno che date sotto i miei video. Qua trovate l'outro con il video consigliato, l'icona per iscrivervi al canale. E logicamente in descrizione trovate il link per seguirmi su Instagram dove vi tengo un po' aggiornati su tutto. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!